Ma come fa la popolazione a decidere per il comune unico o per i comuni così come sono? Se io e l'olipè forse sono poco intelligente, non ho capito niente stasera. Paradossalmente l'intervento più efficace della serata a dibattito organizzata dai Lions dell'Isola del Barristorante Il Giardino di Porto Azzurro sul tema comune unico è stato quello del medico capoliverese Tiberio Pangia che ha evidenziato come il dibattito sulla semplificazione istituzionale sia per il momento roba da addetti ai lavori mentre la gente qualunque non ha grande percezione di cosa si stia realmente parlando. L'appuntamento dei Lions era il secondo dedicato al comune unico e dopo aver ospitato i favorevoli venerdì sera era il turno dei contrari che hanno fatto sentire forte le loro ragioni. Il comune unico è tecnicamente inattuabile, ha detto in un primo accorato intervento il sindaco di Campo nell'Elba Vanno Segnini è un contenitore vuoto e secondo Segnini impreparato a gestire tecnicamente le strutture amministrative di ogni singolo ente. Se domani ci fosse il comune unico, ha aggiunto il sindaco di Campo, avremmo bisogno di 7-8 anni di assestamento. La risposta? Le gestioni associate, ma solo se vuote di contenuti politici e concrete più che in passato nel risolvere i problemi, a cominciare dalla promozione turistica. Il sindaco di Porto Azzurro Maurizio Papi è stato più esplicito nell'attaccare politicamente l'iniziativa. L'Elba è troppo grande come territorio, ha detto Papi. 224 km2 contro i 102 di Firenze sarebbe ingovernabile. Esempio negativo di cattive gestioni politicizzate, secondo Papi, ASA e la gestione delle risorse idriche che hanno privato ogni singola realtà comunale della soddisfazione delle proprie necessità. Presenti anche per il fronte del Sì il sindaco di Porto Ferrei Roberto Peria, Giovanni Battista Fratini per il comune di Rio Elba e il sindaco di Capoliveri Ruggero Barbetti. Abbiamo bisogno di un comune unico dell'Isola d'Elba, ha detto fra l'altro quest'ultimo, all'insegna delle motivazioni bipartisan dell'iniziativa. Abbiamo bisogno di strutture snelle, funzionari efficienti, capacità decisionali e rappresentatività. I municipi, secondo Barbetti, saranno le risposte dirette alle esigenze del territorio. Sono d'accordo, ha aggiunto il sindaco di Capoliveri, con la necessità di indipendenza decisionale dell'Elba, ma questo potrà accadere solo attraverso il comune unico, che potrebbe essere quasi una piccola provincia. Il dibattito finale, nel quale sono emerse ulteriori polemiche sul reale coinvolgimento delle associazioni di categoria nella iniziativa, si è concluso con la provocatoria proposta di Roberto Marini, promotore del Comitato per il No. Facciamo pure il referendum, ha detto Marini, ma facciamolo comune per comune, dando la possibilità ad ogni realtà territoriale dell'Isola di esprimersi correttamente ed evitando soprattutto che altri decidano per noi.